Siamo tornata per una presentazione importante per il giorno del ricordo, è importante per tutta la nostra provincia questo momento ed è importante soprattutto farlo con i nostri ragazzi, anche per questo si è decisa la data di venerdì 9 per favorire la partecipazione fondamentale dei nostri ragazzi perché il ricordo ha senso se riusciamo a trasmettere il messaggio alle nuove generazioni.